Musica Direttore generale del Poggi Bonsi qui in nostra compagnia, il portiere Francesco Pascini. Parliamo della grande vittoria del Poggi Bonsi che ritorna in Serie D. Un passo indietro, Giacomo, torniamo alla finale contro la Forti Suventus alle due strade di sabato scorso. Una partita emozionante, molto bella, che è anche riconciliato col calcio direttante perché abbiamo visto anche il pubblico. È stato quasi come tornare alla normalità. Sì, è tornato al giorno scorso, finalmente è tornato il pubblico perché per i direttanti è una cosa importante. Noi veramente siamo felici di aver portato a Firenze un buon numero di persone, di regalargli soprattutto la vittoria della finale, che non era facile perché contro avevamo una squadra tosta e la Forti Suventus, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta dopo un mini campionato, penso, dominato dall'inizio alla fine. E niente, quindi siamo felici di essere tornati in Serie D. Ecco, la società l'avete fatta ripartire negli anni, di fatto due anni fa, dopo la retrocessione, dopo il cambio della gestione societaria. L'avete un po' rimessa a posto, la società, una delle società a modello adesso della Toscana, è pronta per la Serie D? Grazie per la società a modello intanto. La società è una società sana, da un anno e mezzo a questa parte durante il Covid abbiamo lavorato veramente bene. La società in questo momento è pronta, diciamo, è pronta, non siamo mai pronti per tutto, però ci siamo trovati preparati. Già nello scorso primavera abbiamo lavorato con l'obiettivo di raggiungere la Serie D, se non era quest'anno, negli anni successivi. Quindi già l'idea c'era, quindi siamo pronti, diciamo così. Parliamo anche di impiantistica, a quel punto è lo Stefano Lotti, dopo che è stato per tempo anche chiuso a livello di tribuna, sono stati fatti dei lavori e il pubblico chiaramente è una delle tifoserie più calde della Toscana, che segue il Poggi Bonzi con gli Ultras. Ecco, cosa vi aspettate l'anno prossimo proprio a livello di presenza di pubblico nel vostro stadio? Speriamo intanto che ci facciano rientrare il pubblico al 100%. Non sarà facile, però speriamo, perché il prossimo anno ci saranno delle partite molto importanti per Poggi Bonzi, tra cui la più importante sarà quella col Siena. Lo Stefano Lotti è prontissimo, abbiamo tutto tirato veramente al meglio, all'uscito. La tribuna è nuova, è aggadinata uguale, quindi abbiamo veramente fatto un lavoro durante i mesi del Covid straordinario per farci trovare pronti. Peccato che abbiamo giocato solamente una partita a porta aperte, è stata quella col Valdarno il 2 giugno e basta, quindi ecco, diciamo che l'inaugurazione ancora deve essere fatta per bene. La facciamo il 19 settembre quando comincerà la Serie D. Ecco Giacomo, l'ultima domanda con te è chiaramente una domanda più dal punto di vista tecnico. Stefano Calderini sarà ancora sulla panchina del Poggi Bonzi anche in Serie D nell'anno 21? Certo, Stefano sarà ancora allenatore del Poggi Bonzi in Serie D, ci sarà, insomma, dobbiamo sistemare alcune cose, però sarà ancora lui l'allenatore perché vogliamo dare continuità al progetto che è nato lo scorso settembre con Stefano perché Poggi Bonzi ha fatto un ottimo campionato di otto partite con la vittoria finale, quindi non vedo perché bisogna lasciarsi, bisogna continuare questa avventura insieme e fare qualcosa di bello per Poggi Bonzi. Ecco Giacomo, l'ultima domanda, quanto cambierà invece la squadra? Ci saranno parecchi movimenti sul mercato, andrete più sulle conferme del gruppo che vi ha regalato il ritorno in Serie D? Ci saranno conferme, ci saranno anche novità perché andremo a fare un campionato importante, un campionato completamente diverso dall'eccellenza, però sicuramente ci sarà la riconferme di una parte del gruppo storico perché il gruppo quest'anno era qualcosa di straordinario e quindi giustamente bisogna ripartire da loro che hanno fatto un grande capolavoro. Un personaggio importante, chiave del gruppo del Poggi Bonzi è il portiere Pacini, arrivato nel corso della stagione, ha alle sue spalle, pur essendo giovanissimo, già esperienze importanti nei professionisti, è tornato a Poggi Bonzi dove era già stato con l'idea di riportare i Poggi Bonzi in alto, credo sia questa la tua intenzione, giusto? Sì, l'idea quando sono tornato a Poggi Bonzi era quella, si è creata una situazione che mi ha colpito anche a livello sentimentale perché c'era anche un legame forte fra me e quella piazza, la società aveva l'ambizione di provare a tornare in Serie D, io ero alla ricerca insomma di una situazione che mi creasse un po' di adenalina e di voglia comunque di rimettermi in gioco e ce l'abbiamo fatta. Ecco Francesco, una parola invece sul campionato che è stato, è stato un campionato in cui Poggi Bonzi fin dall'inizio è stato un po' riconosciuto da tutti come il favorito e ne abbiamo parlato spesso anche io e te durante la stagione in diverse partite, quanto è difficile giocare tutte le domeniche quando gli avversari vi aspettano, quando gli avversari sanno che voi siete i favoriti numero uno del campionato? Beh, intanto sicuramente quando parti come il favorito comunque la cosa normale è vincere, quindi quando non lo fai diventa un problema. Noi siamo stati bravissimi, se non quasi perfetti, a farlo per sette partite su otto e poi andare in Serie D con la finalissima. Però non è stato facile, soprattutto magari perché i quattro o cinque un po' più esperti nello spogliato voi dovevamo gestire le situazioni che magari ragazzi più giovani non erano abituati a vivere, quindi non è stato proprio facile, però sono stati due mesi e mezzo bellissimi, intensi che ci hanno regalato una grande gioia a tutti quanti e siamo contentissimi di aver ridato alla città insomma la possibilità di vincere un campionato in una categoria che secondo me Poggi Bonzi come città merita. Ecco anche con te facciamo un passo indietro sulla finale con la Fortis, partita molto equilibrata, molto combattuta, un po' a fasi alterni, a certe volte un po' meglio il Poggi Bonzi nel primo tempo, poi è uscita un po' la Fortis, ha avuto le sue occasioni, ecco che partita è stata vista dal campo, vista da fuori, è stata una partita molto combattuta, giocata ad altissimo livello dove onestamente non ho solo riuscito a trovare un giocatore da rendimento insufficiente perché tutti avete giocato davvero una grande partita. È stata una partita difficile chiaramente quando giochi una finale su 120 minuti in un campo che magari non è proprio adatto alle tue caratteristiche c'è anche la possibilità che si potesse andare in difficoltà, questo lo sapevamo, secondo me abbiamo fatto la partita e dovevamo fare perché poi alla fine quello è contato.